ciao a tutti io sono elena ed oggi eccomi qua a parlarvi dei gruppi pecilia reticulata appartiene alla famiglia dei poecilidi e probabilmente se hai aperto questo video li conosci già in quanto sono dei pesci molto molto conosciuti li troviamo in tutti i negozi che rivendono pesci li consiglio neofiti perché sono molto resistenti anche se negli ultimi anni hanno perso un po della loro resistenza la prima cosa che ci cattura è sicuramente la colorazione sono dei pesci molto colorati con delle lunghe pinne svolzanti si riconosce molto bene il dimorfismo sessuale i maschi sono molto più colorati hanno delle pinne più grandi e presentano il gonopodio lo riconoscete perché una forma allungata le femmine invece hanno una forma più arrotondata della pancia è molto difficile trovare una femmina di guppi non gravida come riconoscerlo quando lo è presento la macchia più scura dietro la pinna anale i guppi vivono all'incirca 4 5 anni in natura le loro dimensioni sono più grandi solitamente nei negozi ritroviamo tra i 3 e i 4 centimetri ora parliamo del comportamento i guppi hanno uno stile di nuotata molto casuale e confusionario a me personalmente non dispiace perché un bel gruppo di guppi riesce subito a colorare un acquario in ogni punto i maschi stressano le femmine ebbene sì le rincorrono spesso per accoppiarsi è importante perciò fornire molti nascondigli sono pesci sempre alla ricerca di cibo molto curiosi e sempre in movimento ora tocchiamo un punto molto curioso di questa specie ovvero la riproduzione è una delle specie che si riproducono con grande facilità la maggior parte delle specie commercializzate infatti non è stata presa in natura ma arriva da allevamenti quando li portiamo a casa e dopo pochi giorni ci ritroviamo degli avanotti in vasca siamo contentissimi ma quando dopo un po non riusciamo più a farli smettere allora diventa un problema certo è bello avere un acquario pieno di pesci colorati e un grosso quantitativo di feci andrà ad alterare i valori quindi attenzione è anche vero però che si autogestiscono in base ai litri dell'acquario sono ovovivipari quindi non ci saranno uova ma l'avanotto verrà espulso già formato i genitori non prestano nessuna cura parentale verso gli avanotti anzi è possibile che vengano mangiati sconsiglio l'utilizzo di nursery piuttosto piantumate bene l'acquario ecco una curiosità le femmine possono trattenere lo sperma del maschio per mesi perciò possono continuare a sfornare avanotti anche senza il maschio non volete questo tipo di problema comprate solo maschi consiglio prima di prenderli chiedete al negoziante se accetterà in futuro pesci in caso di sovraffollamento della vostra vasca il prezzo dei guppi dipende dalla selezione solitamente li troviamo dai 2 euro per i più comuni fino a 15 20 euro per quelli più pregiati come deve essere l'acquario ideale per i guppi consiglio di non scendere sotto i 50 60 litri per questa specie anche per una miglior gestione dei valori dell'acqua non amano le correnti troppo forti e consiglio un acquario ben piantumato per un miglior controllo dei valori e per far stressare il meno possibile i pesci le piante sono veramente d'aiuto in queste situazioni ho dedicato un video sulle piante consigliate per avanotti vi consiglio di guardarlo per capire che piante sono più apprezzate da questa specie come dico sempre cercate di ricreare un ambiente il più naturale possibile e vedrete che i vostri pesci vi ringrazieranno i miei si trovano nell'acquario styline 85 di oase che è una capacità di 75 litri trovate il video allestimento su questo canale youtube vi ricordo inoltre che potete trovare tutti gli articoli necessari per l'acquario perfetto sul mio shop online www.acquariopoli.com alimentazione dei guppi che cosa mangeranno hanno una dieta onnifora quindi si nutrono sia di alimenti a base animale che vegetale essendo pesci che si stressano molto perché tendono a sovraffollare la vasca perché i maschi rincorrono le femmine perché le femmine partoriscono molto frequentemente consiglio di integrare la loro dieta dell'estratto liquido di aglio e del multivitaminico basta qualche goccia sul cibo prima di somministrarglielo questo per aiutare il sistema immunitario perché sappiamo che un pesce stressato tende ad ammalarsi di più le malattie più comuni in questi pesci è l'ictio ovvero quei puntini bianchi sparsi sul pesce e i parassiti andate a vedere il video sui 10 consigli per non far ammalare i pesci ha una bocca rivolta verso l'alto quindi si nutre in superficie non è troppo grande perciò consiglio dei microgranuli e un buon mangime in scaglie spesso sento sconsigliare a prescindere il mangime scaglie ma bisogna guardare la qualità del mangime scaglie non tutti vanno bene per alcune specie come il betta assolutamente non va bene ma per i guppi mi sento di consigliarvelo consiglio di alimentarli anche con del cibo congelato come artemie dafne chilornomus larve di zanzara eccetera se si ha la possibilità anche vivo anche liofilizzato va bene mi raccomando però ritratatelo nel modo corretto prima di somministrarlo apprezzano anche verdure sbollentate come carote zucchine spinaci e tanti altri tipi meglio alimentarli con poco mangime più volte al giorno rispetto ad un'unica volta con un grande quantitativo che valori dell'acqua hanno bisogno i guppi la temperatura deve essere tra i 22 e i 28 gradi sono pesci che prediligono acque con ph tra 7 e 8 meglio se tendente al 7 però un ph acido e molto basso può essere mortale per i guppi il kh deve stare tra 7 e 11 il gh invece tra 10 e 18 se analizziamo i valori dell'acqua vediamo che nella maggior parte dei comuni d'italia l'acqua di rubinetto è adatta a questa specie perciò basterà l'acqua di rubinetto e l'utilizzo di un buon biocondizionatore ora parliamo di convivenze con che altre specie di pesci possono convivere i guppi di per sé i guppi sono animali molto vivaci ma non aggressivi sconsiglio la convivenza con pesci che possono mordere le loro code essendo molto grandi e appariscenti possono vivere tranquillamente con altri poecilidi come black molly portaspada plati eccetera spesso vedo acquari con guppi assieme a scalari beta neon rasbore migramos bleri assolutamente no hanno bisogno di valori d'acqua diversi anche se due specie sono pacifiche e riescono a vivere insieme perché non si uccidono non significa che le stiamo facendo vivere bene quindi è importante formarsi bene anche sui valori dell'acqua che ogni specie necessita oltre al comportamento e tante altre cose se volete ho dedicato un video proprio su come scegliere i pesci per il nostro acquario ora parliamo di quanti guppi prendere se avete intenzione di dedicare un acquario solo loro vi consiglio di partire con uno o due maschi e cinque femmine tranquilli che per aumentare il numero ci penseranno loro c'è chi consiglia di prendere un maschio ogni 3 4 femmine e chi invece dice che non influisce in nessun modo io per mia esperienza personale vi consiglio di prendere comunque più femmine rispetto ai maschi anche se si tratterà solo di una cosa momentanea questi gruppi arrivano dal sito la mangrovia sono veramente pazzeschi hanno delle code spettacolari mi raccomando contattatemi su instagram se volete un codice sconto o in ogni caso controllate nell'info box spero che questa scheda tecnica sui gruppi vi sia piaciuta mi raccomando seguimi su mio instagram dedicato agli acquari acquari un trattino basso start us sulla mia pagina facebook sul mio canale telegram e perché no anche su tik tok io vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video ciao